Peggy3 Ok, super ragazzi, sono ancora io qui, Gordon, buono questo video di Minecraft in YouTube No, no, tu aspetta, tu interrompi la registrazione e aspetti che recuperiamo sto cacchio di casino, eh Vieni qui, se no mi si scompare tutto Hai già preso tutto, hai già preso tutto Vieni qui No, sono qui sopra, sta andando come un mostro Eh, vabbè, io non ti vedo comunque Ah, sei lì, vieni qui, metti la cesta e rimetti tutto dentro, spiegati prima di scompare tutto Cosa devi scomparire? Hai già preso tutto Ah, ok, eccolo Hai già preso tutto Ok, l'ho preso, no, è che laggava Eh, la cassa dove sta? Eh, la cassa dove sta? Vabbè, rimetterò a posto da pure la terra, però, vabbè La cassa dove sta? E' scagliata la totta La cassa La cassa Dove cacchio è la cassa? Dove cacchio è la cassa? Oh! Non so La cassa Oh, di sotto non c'è No Dai Non fare il casino No dai che devo ancora riparare il casino, fermo un attimo E' come pure scomparso la gobletstone dalle mani, so Perchè mi scompare la gobletstone dalle mani? Porca miseria Oh! Ma mi scompare la gobletstone dalle mani Ok Come cacchio ti è venuto in mente di portare un creeper dentro cassa mia? Dammi un'altra roba No, non c'è un creeper dentro cassa mia, dovevi vedere Prima è entrato, è entrato un'am... uno scheletro E' subito dopo un creeper Ho tentato di uccidere lì, ma soltanto che Che il creeper... Volevo scappare sotto, visto che c'era il creeper Poi anche tu hai ripieno di frecce, perchè lo scaretro ti stava uccidendo Sì, ma considera che io, che a me mi è arrivato tutto in un secondo tutta quella brata Sì, ma la mia zera dov'è Sì, ma la mia zera dov'è Abbiamo 10 frecce in testa, poi altre... è l'incoperto di frecce Vabbè, lasciamo perdo, senti eh E sei morto E ne hai un po' di terriccio? Eh? Un po' di terra Non ce l'ho Non ce l'ho visto Come neanche la terra Non ce l'ho Ecco, ho pure scomparso alcune scale Non ce l'ho Sono scomparso delle scale Eh ce l'ho, ce l'ho una, ce ne ho io una Tieni No, dammi tutta la tua roba Oh, cacchio Faccio fare un'ex capito sopra la tua casa quelle tartarughe, ok? Oh, 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 piano E le scale dove sono? Trinno adatto, non adatto, non adatto, guarda, 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 come lagga Guarda, guarda, come lagga Ok, è ricostruito tutto questo, io ho fatto un po' la cacchia Che cacchio? No, io ho pensato delle scale, se permetti, eh Cioè adesso non ha più le scale, che cacchio? Senti, rimetti le due le scale, no? Un po' come lagga Rimetti le due le scale Eh, ma io non ci vedo nessuna, eh Eh, neanch'io Ma te ne ho dato una io Eh, io l'ho messa, però sono già trasformata in terra Ecco, è vero Ho sbagliato Eh, adesso la terra si è trasformata in cobblestone Ma sei in mano alla cobblestone? No, ma la terra si è trasformata in cobblestone, non sto usando la terra Adesso è in mano alla turtle Oddio, almeno ce l'hai un po' di legno Non mi uccidere, non mi uccidere Ecco, adesso mi rilagherà per 2 miliardi di anni Senti, rimetti tutto dentro quella fottuta cassa e basta E scappo, ciao No, rimetti tutto dentro la cassa, se... adesso Ah, come lagga? No, tutti i miei bel materiali La tartaruga pure, un buon mannaggio a te Spade in mano Oh, mi raccogli tutto per... Ce l'avevi tu le scale, bastardo C'ho io, stronzo Ah, come quanto lagga Oh, mmm Mi raccogli la roba? Oh, ma porca miseria, raccoglimi la roba o mi infappo? Ok, dai, basta Facciamo il serio, basta Alleluia Basta Ah, meno male che giorno Eh, dov'è la cassa ora? Eh, dov'è la cassa ora? Ah, ok, ho raccolto la roba, meno male Ma che cacchio succede? Oh, ok Eh, spero tu stia foppando Cosa? Mi hai ucciso un'altra volta Hai scoperto adesso? Mi hai ucciso... ma che cacchio? Ma si vede, si vede che... 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 che stai laggiando Adesso dura qua, aiuto quella roba e me la metti... me la metti dentro una cassa Ah, quello... quello che sto facendo Ok Ok Fammi usci... che fanno... Si mi asplica dentro quattro minuti, se no la roba è un casino Dopo poter rubarti la roba Veloce, veloce, veloce Ho già preso tutto, non lo stai laggando, ho già preso tutto Vabbè, metti dentro la cassa, spiazza la cassa e metti dentro la cassa, hai Qui, chiama la cassa Ho matto due, cavolo sei E rilogona Connessione di cacca Ok Ah, no, ecco Eh E sto qua dentro casa E sto dentro casa Si vede Ah no ecco Ma che cazzo stai facendo No io sto fermo E questo sono di fuori Che cacchia succede Ok adesso sono dentro Oh che palline Porca Perché stai Ma stai andando a velocità ipersonica No veramente stai andando a velocità ipersonica Ma come laca Guarda come laca Sta fermo Sta fermo Fammi mettere la roba Ma c'era un'altra cassa aspetta Fermo Si mi raccoglie un po' di legna Per favore No io voglio fare le mie robe Ah Ok adesso mettiamo Mettiamo una tartola così un po' scava Ci voglio un po' di robe Intanto 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 Ok da posto casino Il permesso di farti tutto quello che vuoi No 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 Quei cazzo Si 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 è ero malico Mi spiace Ho fatto un cazzo Non ti ho fatto niente Ti ho fatto niente Ti ho fatto niente Ti ho fatto niente Ringrazia Non hai ancora fatto il chanclo Adere se no Ti sarebbe esponata la roba Ma dai non ti ho fatto un cavolo Dai mamma mia Che checca che sei La metto una checca Oh ma mi lagga a me Che ci vuoi fare Eh ma è colpa tua Non è colpa mia Sei mi lagga Eh la tua connessione Devi Ecco ma si al fine è colpa tua Vabbè Io vengo Le mie precauzioni Con la porta Osserva un po' di legna Di legna Così faccio una cesta Vediamo come Si metto a scrivere questa carta Vabbè io metto Registrare un episodico Io lo sto già registrando Quindi No è perfetto Insomma Vabbè non lo registro No dai registra No ma sai fra poco Devo andare via Mi aiuterò Dopo viene Un video tutto spezzato E' un po' qui Allora Qui ci va la carbone Poi mi serve un po' di Di coso Di Di redstone Vabbè che mi frega il registro Ciao a tutti ragazzi Eccoci in un episodio di Minecraft Minecraft group Come cacchio si chiama Sto serie Vabbè come si chiama Minecraft in Tu te lo ricordi come si chiama Vabbè Minecraft ftb group Era così il nome Oh guarda Una minimum stone No no Questa è mia Quella è mia No è mia E' mia quella Vabbè fammela usare un pochino No è mia Vabbè ti vengo a Dove Ti metto la tarta Sopra casa Vabbè fammela usare un pochino Ti metti la tarta Sopra casa No è comoda Perché posso aprire la crafting table Dammela 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 E' mia E' mia Vabbè vieni a casa E poi te la do Allora Sto Guardi a centrare No è una cosa E' una cosa E' prima E' una cosa Vabbè Vabbè Ma ma che la Vieni a un po' di Shard of Minim Ti ripeto Siamo in Pacifica un attimo lo scarso ok mettiamo ci spostiamo un pochettino a mettere sta cartola uh dopo mi vado a prendere mi faccio una scopa mettiamo il tipo qua la cartola ok rieccomi rieccomi allora qui ho messo il polverizer e la power of the furnace adesso devo aspetta aspetta ma in che senso dobbiamo mettere la cartola in questo vieni 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 eh un attimo no aspettavamo mettere un blocco davanti se no ok allora andiamo a casa di gordon oh perchè non cuore storizio ok ok cacchio caspio ecco qua in quanto qua sono qua sono qua ops spini e non lo è che e considera che tu hai fatto un mega scatto verso l'alveare in questo senso oh sto tizio è già fai escavate è giusto già stai fai escavate eh si saranno le robe eh si ma non fallo così vicino sennò il paesaggio diventa brutto e poi fai il mondo della miscraft e così lo fai in un'altra dimensione eh si ma non c'ho voglia adesso dai eh e la pena fai il pietro è un libro con una piuma e poi fai un link in book e si vede un mondo di schifo con cui muoio ogni volta di sin non c'ho voglia vabbè allora fallo qui che ti dico tanto tempo mi sono dietro a casa mia quindi si però fallo verso di qua guarda perso dove aspetta mamma che l'alga no aspetta fallo prendi la cassa e vieni qua non so quando ti vedo scattare come niente ok andiamo segno grandemente per con grandemente modestamente allora guarda oh di un creeper no 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 non hai visto porca gli alberi eccolo gli stai seguendo allora 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 sono i seguiti che cacchio è vero ci sono pure le prove video guarda lui stava sotto terra sotto terra e camminato dove a dire